Buon pomeriggio a tutti amici, mi presento, sono Dottor Scarpanti, mi interesso di medicina estetica, di alimentazione e di medicina naturale. Mi è stato chiesto gentilmente di occuparmi di una rubrica che ho deciso di chiamare Dica 48, prendendo un po' il giro il famoso detto Dica 33, ma soltanto perché mi piacerebbe riuscire con voi in interventi molto brevi mettere un po' di ordine in questi tre settori, quindi parleremo di medicina estetica, di trattamenti, di cure, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, di alimentazione, anche in questo campo parleremo di qual è la giusta alimentazione, quali sono gli errori più comuni, che cosa bisogna fare e soprattutto cosa non bisogna fare. Spero di essere gradito, spero che mi seguiate in tanti, che vi affezionate a me e al mio piccolo spazio e vi aspetto numerosi. A presto!